Un simbolico ma gigantesco abbraccio di 500 poveri provenienti da diverse parti del pianeta. Questa è stata l'accoglienza per Papa Francesco, arrivato ad Assisi intorno alle 9.35, subito dopo aver fatto visita alle Clarisse di Santa Chiara. È stata la quinta visita assisana per il Pontefice, questa volta per incontrare circa 500 poveri provenienti da ogni parte d'Europa nella giornata mondiale a loro dedicata. Dopo esser sceso dall'utilitaria, dinanzi al corridoio della Basilica di Santa Maria degli Angeli, Bergoglio si è soffermato con alcuni bambini e famiglie dando in dono dei rosari. Il Papa, affiancato da Monsignor Fisichella, è stato quindi avvicinato dalle autorità civili, come il Vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, Monsignor Boccardo, Presidente CEU, il Sindaco di Assisi Proietti e il Prefetto di Perugia, Gradone. Papa Francesco ha poi salutato alcuni poveri in rappresentanza dei 500 che lo attendevano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi e che gli hanno consegnato simbolicamente il mantello e il bastone del pellegrino. Quindi, nella porziuncola, Bergoglio si è intrattenuto in contemplazione, ascoltando alcune testimonianze di povertà o di volontariato accanto agli ultimi. Storie di dolore, malattia e persino violenza, di conversione, di vite che sconfinano troppo spesso accanto alla morte, testimonianze arrivate da ogni parte del mondo con il Pontefice che prima di lasciare Santa Maria degli Angeli per recarsi a pranzo nel monastero delle Clarisse di Valle Gloria a Spello ha lasciato un messaggio forte e limpido affinché ai poveri sia restituita la parola perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. A volte si sente dire che i responsabili della povertà sono i poveri, un insulto in più. Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, un esame di coscienza sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli. È tempo invece che ai poveri sia restituita la parola perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimbuncarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà dei bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda del nafragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che si spessi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo. È tempo di incontrarsi. È il momento dell'incontro. Se l'umanità, se noi uomini e donne non impariamo a incontrarsi andiamo verso una fine molto triste.